Stiamo ancora con le stampelle, raccontaci subito come stai, qual è la tua scheda clinica in questo momento. Sta andando molto bene, sto iniziando ad appoggiare, quindi va molto bene. Settimana di festeggiamenti della Contrada dell'Oca, che sono cominciati con la presentazione del numero unico, quindi parteciperai a tutte le serate? Spero di riuscire a venire a più serate, perché me la voglio godere un pochino anche io. Finora non ero riuscito, però da ora in poi spero di essere presente a diverse cene. Domani c'è la scena della vittoria. Sì, domani la scena della vittoria sarà un'emozione, già da oggi sento un po' di emozione. Per domani. Farai un discorso? Ma mi hanno detto che devo parlare, quindi mi tocca da fare il discorso. Scuderia, è arrivato qualcosa di nuovo? Dai, un paio di cavallini li ho presi, tutti cavalli nuovi da vedere, dai. Però sono bei cavalli. Senti, ci sarà anche la rassegna del poledranglo arabo. L'anno scorso avevi portato dei soggetti, quest'anno? Quest'anno no, non li porto. Perché? Perché a parte l'incortunio a me piaceva prepararli per bene da prima, non ho potuto farlo e preferisco venire a vedere. Durante il discorso Carlo ha detto che non ti aspettavi che Zio Fra che potesse fare un esplan in questo modo? Da scosso. Cioè, la domanda era, ti aspettavi una volta che sei caduto e potesse vincere? No, perché mi era già andata male nella caduta, quindi non pensavo che potesse andarmi bene dopo. Se ero a cavallo pensavo che potevo vincere il palio perché era uno dei cavalli che poteva vincere il palio.